si trova si trova l'italia visto che si trova un commento e sandra tu hai paura degli horror sicuramente è perché io mi sto cagando sotto ora qui mi dicono che la live cosa è successo la tua live non è indone per essere consigliate le salari perché è il tabacco no no e non lo so perché mi hanno detto non i tonio anche alla line stai fumando per caso no io ho fatto colazione adesso ho leccato il cucchiaino perché consumare le sostanze rappresentate questa live potrebbe arrecare danni alla tua salute il caffè non lo so io potrei adesso questo con la scarico l'amato ha ditto sprecato il cucchiaino forse lo sta inveno per un ca